Questa avventura è stata una totale follia. Io ho sposato con Sonia? Con una figlia che mi ama? Chi mi conosce si chiederà come diavolo sia possibile. Ho chiesto alla Clessidra di mostrarmi come la mia vittoria su Shinnok, peraltro magnifica, mi avrebbe trasformato da stella di Hollywood a icona mondiale. E fin qui tutto bene. Ma sono finito vittima della mia stessa fama. E ho toccato il fondo quando ho compreso quanto avevo deluso la mia piccola. Finalmente capivo i discorsi del mio vecchio sull'importanza di essere umili e saggi. Ma sapevo che per diventare come lui dovevo condurre una vita simile. Per questo ho ripristinato la linea temporale. Ma con una sola minima differenza. La storia di Sonia non si sarebbe conclusa sotto le macerie di un castello del regno occulto. Perché i film di Johnny Cage hanno sempre un lieto fine. E magari magari add colorale con lui è ch ecco. Per questo è un'es netta per sete. Il sì bears ture. Ma con un piacolteto è proprio la mia piccola. Ma con una sola sieht bra no, lieto dieो cheial surprote. Si beh a detto, vuoi chi Malia quel discorso. Lo a cuffic republicimentation avrebare 세, le rec baце. Grazie a tutti.